Ma io sono quasi qua... Ok ragazzi dai! Allora ci siamo, c'erano anche tutti quei modi da imparare per la miseria... Ma forse l'italiano... Lo so... Ragazzi l'importante è che sono venuti attaccare bene a dei battuti, non ci sovraccavalliamo come facciamo anche nelle grandi, raccomando... Ma io poi non lo so se stasera ci sta gente o non ci sta gente, come da me sto teatro mi da adrenalina, ragazzi! Ecco, prima di una partita... E Roma, rispetto agli altri anni come ti sembra quest'anno? Eh, ma che sogno sempre per dire, non si può dire eh! No ma poi... Quando ci fanno di scena poi rimangono tutto... No ma poi... Quest'anno è stato particolarmente scoperto... Ragazzi poi facciamo lo spettacolo, facciamo lo spettacolo... Abbiamo voluto la bicicletta! Eh eh eh! Secondo me è tutta una questione di via fra la eh! Bici? Sì! Vabbè! Dai, quando c'è un po' la strizza poi tutto passa, dai! Forza dai! Ragazzi, siete pronti? Ahahah... Ehi! 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 Grazie a tutti